Il piano urbano della mobilità sostenibile, come dice la parola, va a interpretare tutti i tipi di mobilità, quindi dal pedone fino all'autotreno e la sostenibilità sta proprio nel fatto di andare a contemplare le esigenze di ogni tipo di fruitore della strada. 8 rotatori e ben 7 aria, 30 km orari, 2 piazze pedonali ed infine il biciplan, queste sono le principali opere del PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile. Sicuramente ha un capitolo molto importante la parte del biciplan, perché la parte della mobilità ciclabile è una parte che è tenuta molto in considerazione dalla comunità europea e dal nostro governo centrale, quindi prevediamo di andare a realizzare molti chilometri di nuove piste ciclabili, di collegamento fra le esistenti prevalentemente, che in parte verranno realizzate grazie ad un bando che abbiamo vinto nel corso dello scorso anno. Per quanto riguarda le infrastrutture, parte degli interventi sono quelli già annunciati che stanno entrando in fase operativa anche grazie al bando delle periferie. In altra parte sono infrastrutture che non ricadono nelle competenze dell'amministrazione pubblica, ma che ricadono nelle competenze dello Stato, piuttosto che della provincia e della regione, che però è giusto in qualche modo individuare e andare a descrivere. L'ovità anche per quanto riguarda i varchi elettronici della ZTL. Andremo nel corso dell'estate a installare le famose telecamere in uscita che consentiranno di verificare se i permessi vengono utilizzati in modo corretto da parte di chi ne è in possesso e sicuramente avremo un calo degli accessi all'interno della ZTL e andrà nella direzione che intendiamo perseguire con la giunta a Ghinelli, ovvero quella di avvicinare sempre più la nostra città ad una vocazione turistica e culturale. Altre novità riguardano infine il trasporto pubblico locale. Le strategie di intervento prevedono infatti la creazione di linee circolari ad alta frequenza a servizio delle aree centrali e di stazioni, ospedali, università e parcheggi di cintura. Ora verrà adottato in giunta, poi ci saranno 30 giorni per le osservazioni da parte dei cittadini, dell'associazione, degli enti che riterranno opportuno fare qualche tipo di osservazione, dare indicazioni e suggerimenti, successivamente si porterà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva.